Si sono svolte a Palazzo Lascris le premiazioni dei vincitori del concorso Piemonte Mese, giunto alla sua decima edizione. Il premio è aperto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni ed è riservato da articoli inediti in lingua italiana su argomenti che riguardano la nostra regione. 174 gli articoli pervenuti, 105 per la sezione cultura e 69 per la sezione economia, turismo e ambiente.